Si può sacrificare il nome a questo punto di servizio? Per me non c'è nessun problema. Voterei sì se mi assicurano che resta Gambuliano e Suvizzo. No. Allora niente, non si vota. Neanche in cambio di servizio. Neanche in cambio di servizio, vero? Il problema è sentito, c'è un bel po' di campanilismo, secondo me, sbagliato, perché trovo che non abbiano molto senso i comuni troppo piccoli. C'è qualcuno comunque che non la vede molto, ma più che altro per il fatto che non vengano a mancare i servizi, che se ne vada il comune, che possano mancare i servizi. Però per il resto si è sempre parlato di un vantaggio nella fusione. Abbiamo visto che in generale c'è comunque un vantaggio. Gambuliano, tiene sempre il nome Gambuliano, una frazione di Suvizzo, come che è Monte San Lorenzo, una frazione di Gambuliano. Penso che sia la cosa più giusta. Passerà, secondo lei, questa iniziativa o il campanilismo potrebbe anche resistere? Da come sento le persone che sono molto... 10 persone che sono molto contrarie. Però... assieme a fare alla maggioranza. Diciamo che è una comunità abbastanza vecchietta e quindi comunque tenerla attiva o avere delle proposte più nuove anche per i giovani, sento che ce ne sono tanti. Se ci fosse l'opportunità, vendo più fondi, ben venga. Non credo sarà passata, non credo. Perché Gambuliano comunque ha una storia e dispiacerebbe perdere comunque il nome. Si potrebbe affiancare al nome Suvizzo il nome Gambuliano. Voterà no a loro la fusione? No, no, sono favorevole per quello, perché è una cosa... perché è un paesino piccolino, è una cosa valida. E l'umore in paese qual è, secondo lei? Passerà? Non lo so, non lo so. Non lo so, non posso... Non si azzarda? Non lo so. Non lo so, non lo so.